3, 2, 1, azione! Ogni mattina mi sveglio e pensare di essere il duca del toso del coso è una grande soddisfazione. Che potete sto detto? Cos'è quello? Poveri shop, fate assurde! Io voglio vedere le cose, ma su! Bellissimo! In Piemonte! Siamo pronti al mio 3! Se vi è piaciuta l'imbalizzazione che è nata banana, se no forfè! 1, 2, 3! Forfè! Io sono un uccello! Un uccello grandissimo! Siamo liberi! Siamo arrivati! E' un uccello grandissimo maachte! E' stato finito! E deve fare la danza della vergogna! Quindi le persone molto distinte, tutte e quante. La più famosa di New York! Ha lasciato te! Buffet ha detto! Ha detto lui, mi meriti perché? Eh, ti ha lasciato lui! Ha ragione! Tanto ti ha lasciato lui dire che fai figo, vabbè! 3, 2, 1, da, vai! 4, 2, 4, brava! Aspetta come sapete fare voi donne di depistare la cosa poi, zà! No, non la posso vedere! C'è un po' di pazzesca e nonna che arriva e infierisce! Vai! Ah! Ah! Possete leggere! Bravo! 1, 2, 3! Bacchamara! Ma per arrivare le bacchamara! Le bacchamara! Bacchamara! Un po' di pazzesca Eh! Bacchamara! Bacchamara! Ooooooh! Ah! Eh! Snotta, basta! 1, 2, 3! Azione! Su, 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 su! su quelle tutte una sorella che si fa chiamare Johnny dei pantaloni nella sala in ascensore no in sala d'aspetto del medico ma non mi permetterei mai non vorrei mai si eeeh anche lei tutto sto problema prima non basta non basta non era un film porno e quando di nuovo mi ha detto calonciro mettiti le pantite uccide non mi sa io non ce l'ho più fatta non mi sa mi raccontato tutto se io senza neanche che io devo c'er solo il figlio avevo questo un desiderio di mettermi nella barra le battite e te sei di una tocata pure di 1 2 3 3 una piccola ansia che vi tormenta nella vita che non siano mettere le pattine voglio voglio p non c'è la pelle schiaffone mm è ah 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 Sono finito le uova ma è un grosso problema, io troverò il marito, ha 62 anni, mi troverò Sotto ci sono i vicini che da anni ci provano con le due zittellone, quella bassa e quella alta, quella magra e quella grassa, quella sveglia, quella che prendi? Una, cioè quella che c'è c'è Beh anche noi, basta ragazzi Bisogna passare da uomo ad animale Non so perché io ho due banana Che? Attenzione Beh anche lei hanno due banana E questa uova La scelta questa sera, mentre loro sono girati, dovrà venire qua e mettere la banana in uno dei tuoi contenitori Decide lei quale è stato il regista più capace della stessa principale Il regista della serata è Andrea Bruno Grazie 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 Grazie